Grave incidente sul lavoro questa mattina intorno alle 9.30, un operaio di 60 anni mentre era intento con un collega a sistemare un cancello elettrico scorrevole all'ingresso di una villa privata di via Ungaretti a Giarre, è stato schiacciato dal peso dello stesso che improvvisamente ha ceduto procurandogli delle gravi ferite all'addome. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 allertati da alcuni residenti che in considerazione della gravità del caso hanno ritenuto purturo fare intervenire l'elissoccorso che poi è atterrato nella vicina elipista del campo di atletica di Viale Sturzo. L'uomo quindi è stato trasportato al trauma center del Canizzaro di Catania. Sull'incidente sul lavoro indagano i carabini della locale compagnia.